Questa celebrazione che ci vede riuniti intorno a Pietro, accolti e sostenuti dalla presenza di colui che presiede nella comunione la nostra comunione, ci aiuta a contemplare cos'è la Chiesa e anche la bellezza senz'altro è un ulteriore ausilio, ma ci offre un'icona della sua realtà umana e spirituale, perché la Chiesa non è mai idealizzata o virtuale, ha i nostri tratti, per questo dobbiamo curarli. Veniamo tutti dalle nostre tante Emmaus e portiamo con noi la tristezza di quei pellegrini con il cuore gonfio di disillusione, ferito, aggressivo, e amaro, perché le speranze erano finite e tra questi, il cui volto portiamo nel cuore, ricordo l'angoscia che grava nell'anima del popolo ucraino, che anela la pace e quanti piangono qualcuno che non è tornato più inghiottito dalla macchina di morte fratricida che la guerra. il Signore continua a farsi pellegrino per le strade del mondo, potremmo chiederci Lui sì e noi no, non si stanca di cercarci e di cercare e spinge a metterci per strada per liberare da un destino senza comunità, per scaldare cuori spenti e farli ardere di amore e di speranza. Il Signore non smette di donarci il suo spirito, perché la vita non si chiuda negli orizzonti mediocri di Emmaus, magari a discutere tutti i giorni, ma del passato, senza saper vedere il futuro, quindi fuori dalla storia. Essere qui, al termine di quasi due anni di cammino sinodale, è una grande emozione che ci sintonizza con i fratelli e le sorelle e con questa Madre Chiesa che tutti ci accoglie e continua a generarci a figli. Come i due di Emmaus, anche noi troviamo Pietro che conferma la nostra fede. Troviamo un popolo grande, che accoglie tutte le etnie, perché è popolo santo di Dio. Un popolo, ma sempre una famiglia, che ci chiede di vivere con lo stile e i sentimenti della famiglia, non da funzionari anonimi, anche zelanti, ma con il cuore e gli affetti da un'altra parte o interessati solo a quello che li riguarda direttamente. E in famiglia non funziona così. Questa è la casa, è la casa di un padre che ricorda sempre che tutto quello che è suo è nostro e anche viceversa, che tutto ciò che abbiamo diventa davvero nostro proprio perché insieme. è solo un cuore largo e cattolico, cioè libera da misure avare e paurose e ci aiuta a scoprire, a riscoprire il mondo senza confini, come è il mondo. Il mondo però inizia sempre da ogni persona, da quella persona, da quell'incontro, scoprendolo o scoprendola nella sua grandezza e unicità, quel mondo che è lui e lei, e amandola perché non è un'isola e perché non lo sia. E quanto c'è bisogno di amore gratuito, vero, non virtuale, di legami umani e affettivi. È il legame che ci ha unito e ci unisce ai tutti per i quali Gesù spezza il suo pane e quei tanti che incontreremo comunicando il suo Vangelo. Ma qui oggi lo contempliamo in pienezza, perché c'è lo Spirito che completa tutto, ma qui avviene molto di più di quello che pensiamo nel nostro camminare assieme. Vediamo la sinodalità, frutto, qui lo Spirito, frutto e fonte di tanto concreto amore. Il Libro degli Atti documenta, l'abbiamo ascoltato, un passaggio cruciale nella vita di San Paolo. Gli era stata appena notificata l'accusa formulata dalle autorità giudaiche. I suoi accusatori litigano tra loro e l'Apostolo parla senza alcuna sottomissione, con una certa scaltrezza evangelica, che non dobbiamo mai dimenticare, sempre unita all'altra, alla semplicità, ma anche la scaltrezza evangelica. Conoscendo la cultura e le contraddizioni dei suoi accusatori, Paolo in fondo è solo un prigioniero e deve sottoporsi al processo delle autorità romane, ma il cammino nella storia è sempre pieno di sorprese. Se siamo pieni del suo spirito, docile alla parola, che non smette di innalzare gli umili, abbassare i superbi, di trasformare il deserto in un giardino, è un peccatore in una persona libera, libera di non farlo più, è visitata nella sua casa che diventa piena della salvezza. Durante la notte Paolo ascolta il Signore che gli parla. Il Signore continua a parlare, se lo ascoltiamo. Coraggio, come è testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma. Paolo a Gerusalemme aveva testimoniato la risurrezione di Gesù, di Nazareth. Gesù è il Cristo, è risorto, come i due diemos. Paolo parte da Gerusalemme in catene, ma libero nel cuore, con una parola chiara, nel cuore e sulla bocca, che è la sua libertà. Gesù è risorto. Coraggio è l'espressione che ascolta da Dio, che conosce la fatica della sua testimonianza e di chi testimonia per davvero il Vangelo. Vivere per il Vangelo, infatti, ci fa anche confrontare con il nostro limite personale, e anche il limite che è la durezza del mondo, ci fa confrontare con la forza del male, che i cristiani conoscono perché amano e non aspettano qualche pandemia per combatterlo. Qualche volta facciamo fatica anche noi come tutti e nemmeno dopo la pandemia lo combattiamo. Coraggio, dice il Signore a Paolo, ed è la carezza di Dio, la sua compagnia, perché non gli dice coraggio e se ne sta da un'altra parte, perché sta con lui, è la sua cura per ogni credente e per ogni uomo affaticato e oppresso. Coraggio è anche lo stimolo a trovare nuove vie di trasmissione della fede, ad annunciare il Vangelo in ogni circostanza e ovunque e a non aver paura di prendere il largo. Paolo conosceva Tarso, dove era nato e cresciuto, Gerusalemme, la Palestina, dove aveva studiato, ma è chiamato a proiettarsi ben più lontano. È obbligato, certo, a farlo da un processo ingiusto, a farlo in catene, ma libero. Paolo trasforma le difficoltà in opportunità. È davvero libero da ogni catena e da quel veleno pericoloso che è il pessimismo, perché non si può mai fare niente, che può essere anche nutrito da giudizi intelligenti, pessimismo, molte volte si crede di capire le cose più della speranza, ma che poi alla fine diventa sempre indifferenza, perché tutto può cambiare e niente è impossibile a chi crede e Roma sarà la sua prossima tappa, Roma, nonché l'epilogo della sua esperienza di apostolo per vocazione. Allora, dietro questo avviso divino a lui e a noi c'è un grande messaggio di speranza. Il Vangelo non ha confini e chi è pieno del Vangelo è libero dai confini o li supera, ma non perché dilata il suo io come avviene pericolosamente nel mondo, ma perché ama. L'amore supera tutti i confini e non ha paura quindi di cercare nuove terre come chi ama Gesù e quindi tutti, anche le terre non ancora esplorate da nessuno, anche Roma, che insomma metteva un po' di timore, eh? Il Vangelo ci fa sentire a casa ovunque e tutto è reso da lui casa. Gesù aveva pregato, infine, per la buona riuscita anche della missione di Paolo in questo suo discorso sacerdotale che abbiamo ascoltato nel brano odierno. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. La parola è quella affidata a noi, discepoli di ogni l'ora, noi dell'ultima. Quelli che crederanno in Gesù mediante la loro parola sono le donne e gli uomini, i bambini, i giovani, gli adulti delle nostre comunità. quanti incontrano il risorto nella testimonianza di un fratello o di una sorella, nella nostra. E la gloria di cui parla Gesù nel Vangelo di Giovanni risplende proprio in ognuno di noi, per com'è, ma se è pieno di lui. Ed è nella comunione tra i credenti, dice Gesù, la gloria che tu hai dato a me io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. è il nostro impegno, la fatica benedetta di questi anni di essere una cosa sola e di, non perché ferma, perché l'unità è sempre dinamica, infatti nel cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, camminare insieme, al passo con il risorto e in dialogo con il mondo. All'inizio del nostro percorso sinodale, Papa Francesco disse, siete venuti da tante strade e chiese, ciascuno portando nel cuore domande e speranze, sono certo che lo Spirito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, di ascoltarci reciprocamente, di avviare un discernimento nel nostro tempo, diventando solidali con le fatiche e i desideri dell'umanità. E quando facciamo questo siamo anche più uniti. Non c'è comunione senza l'azione dello Spirito e la nostra docilità a lasciarci guidare da Lui e quindi liberi dai piccoli interessi, dagli affanni di Marta, dai protagonismi che ci riempiono d'orgoglio e ci svuotano il cuore, dai programmi che ci rendono sicuri ma lontani dai pellegrini e dai fratelli. Allora, infine, coraggio e unità sono i due binari del percorso che la parola di Dio ci indica oggi attraverso la liturgia eucaristica. Il coraggio che ci dà Lui, che solo l'amore può generare in noi per ascoltare, discernere, decidere per Lui e per il bene della Chiesa e l'unità, cioè pensarci insieme. Guardate, a tutti i costi, a tutti i costi, non uguali, anzi, se siamo uniti siamo ancora più diversi perché finalmente, liberamente, noi stessi perché in relazione gli uni agli altri. L'unità è santa e non a caso è sempre legata alla pace perché la guerra inizia quando si accetta la divisione, quando si provoca la divisione. e veramente abbiamo tanto a cura l'unità, sempre, che poi è la comunione. L'unità, sempre al centro Gesù, dietro cui camminare è da amare nella comunità e nei suoi membri di diritto della comunità che sono i fratelli più piccoli, i poveri, i sofferenti, i forestieri, i nudi, gli assitati di vita e di speranza, gli affamati di amore e di pane. Perché tutti siano una cosa sola, nell'amore che, in quell'amore che è proprio l'amore, tu sei in me e io in te. Una cosa di amore. Noi in loro, nella comunione di amore di Dio, perché il mondo creda che tu mi hai mandato e anche ricordiamoci sempre da come amiamo e ci amiamo ci riconosceranno. Allora contempliamo la sua gloria perché il suo amore è in noi e noi con lui. più forte del nostro peccato. Presso la Cattedra di Pietro rinnoviamo questo desiderio che ci riguarda tutti nelle diverse e tutte complementari responsabilità. Nella comunione nessuno è disoccupato e nessuno non è importante. E con noi tutte le comunità e le chiese e le comunità che portiamo nel cuore. essere tutti pastori secondo il cuore di Dio, coraggiosi e uniti nell'annuncio della lieta novella perché il Signore è veramente risorto e non muore più. e non muore più. Grazie a tutti. Grazie.